L'argomento sarebbe la posizione dei veicoli sulla carreggiata, ossia la mano da tenere durante la circolazione, cioè da quale parte circolare della strada. E abbiamo una norma generale che ci dice che i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro, anche se la strada è libera. Quindi il veicolo rosso circola in una posizione sbagliata perché occupa troppo spazio, riduce la visibilità degli altri veicoli, diminuisce la possibilità di essere sorpassato perché chiaramente il veicolo blu deve spostarsi molto a sinistra per sorpassarlo. E quindi occupando la strada in modo sbagliato induce anche a fare manovre sbagliate come il sorpasso a destra perché starle in mezzo insomma dà fastidio agli altri. Quindi diciamo intralcia il traffico che è una delle cose che non bisogna fare, né costituire pericolo né intralciare il traffico. Poi in prossimità del margine destro è relativamente diciamo interpretabile secondo naturalmente la situazione di marcia, cioè il conducente che deve capire a quale distanza stare dal margine destro. Dipende prima di tutto dalla velocità che si ha in quel momento e dal tipo di veicolo che si sta guidando. Infatti vedremo che i veicoli senza motore devono stare strettamente vicini al margine destro della carreggiata in ogni circostanza, quindi il più vicino possibile. Ma vedremo che anche gli altri veicoli a motore lo devono fare questo atteggiamento, ma solo in certi casi. Vediamo un attimino di capire perché questa regola è così assoluta anche quando la strada è libera. Cioè perché se non c'è nessun altro a circolare in quel momento sulla strada io devo tenere la destra come mi è prescritto? Perché devo abituarmi a questo comportamento per quando la strada poi sarà occupata anche dagli altri? Quindi come vi ho detto tante volte è uno dei tanti riflessi condizionati, cioè delle corrette manovre di guida, posizioni eccetera, che dobbiamo imparare fin dall'inizio e poi applicare in modo automatico. Il tenere la destra inizialmente può essere un po' difficile, cioè tenere la destra nel senso di non semplicemente stare nella parte destra, ma proprio stare vicini al margine destro. Perché inizialmente non avete ancora l'occhio alla guida e quindi avete paura di andare a sbattere contro i veicoli in sosta o insomma di andare contro il marciapiede o altri ostacoli sulla destra. È una cosa che vi verrà poi naturale quando assumerete una certa sicurezza nella guida. Ecco perché l'istruttore di guida, quando inizia alle prime guide, insiste particolarmente su questo comportamento che è fondamentale tenere rigorosamente bene la destra anche quando la strada è libera. Andiamo avanti e vediamo i casi Andiamo avanti e vediamo i casi in cui bisogna tenere il più possibile la destra, stare il più possibile vicino al margine destro, cioè rigorosamente vicini al margine destro. Questo vale come comportamento per tutti i veicoli sprovvisti di motore, si parla anche degli animali perché abbiamo visto che la strada è aperta alla circolazione anche degli animali condotti ovviamente da un guardiano, quindi mandre e greggio che si spostano magari da monte a valle e viceversa per andare al pascolo che dovranno in qualche modo insomma attraversare la strada o camminare lungo la strada. Il più possibile vicino al margine destro della carreggiata vuol dire proprio ben appiccicati al margine destro e questa norma vale, abbiamo detto, per i veicoli sprovvisti di motore perché sennò intralcerebbero il traffico essendo molto più lenti degli altri ma vale anche quando incrociamo quindi i veicoli provenienti in senso opposto si intende su una strada come questa raffigurata a doppio senso a due sole corsie cioè non una strada a più corsie perché ovviamente non ci sarebbe motivo quindi quando potrebbe essere piuttosto anche difficile data la larghezza dei veicoli che si incrociano magari due autotreni, due veicoli molto larghi su una strada a doppio senso stretta con solo due corsie. Percorrendo sempre su questi tipi di strade, quindi noi parliamo di strade a doppio senso a due sole corsie in questo caso, percorrendo il tratto in salita di un dosso perché abbiamo scarsa visibilità limitata dalla salita percorrendo una curva sempre su questo tipo di strada e quando si viene sorpassati poi abbiamo un quinto caso che vale sempre su qualunque tipo di strada quando dobbiamo svoltare a destra ne parleremo magari quando parleremo anche dello sterzo come si può effettuare la manovra della svolta a destra osservando questa norma del tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata per naturalmente agevolare il resto del traffico. Andiamo avanti e andiamo a vedere come ci si comporta sui vari tipi di strade dove abbiamo naturalmente molti quiz riferiti ai vari tipi di strade che adesso vediamo una ad una. Cominciamo con una strada a doppio senso di circolazione a una sola carreggiata come questa divisa in due corsie quindi complessivamente quel tipo di strada che abbiamo detto prima si deve marciare nella corsia di destra che è questa e dobbiamo impegnare la corsia del senso opposto soltanto per il sorpasso per il tempo strettamente necessario perché naturalmente la corsia del senso opposto è dedicata al senso contrario di marcia quindi facendo il sorpasso utilizzandola marciamo contro mano. Poi abbiamo la strada sempre a una sola carreggiata divisa in tre corsie si parla sempre di una strada a doppio senso. Ora, questo tipo di strada non la troverete più nella realtà però è ancora chiesta nei quiz tuttavia dobbiamo vederla perché perché ci sono ancora delle domande. Era una strada molto pericolosa parliamo al passato perché sono state tutte abolite, trasformate modificando la segnaletica orizzontale o allargando la strada quando era possibile in quanto la corsia di destra serviva per il nostro senso di marcia la corsia di sinistra per il senso opposto la corsia centrale per il sorpasso in entrambi i sensi capite che era una strada molto molto pericolosa che provocava molti scontri frontali perché impegnare per i due sensi di marcia durante il sorpasso cioè in fase di accelerazione la stessa corsia significava essere molto molto abili nel capire quando poter fare il sorpasso senza andare a scontrarsi contro chi la occupava dal senso contrario per fare la stessa manovra. Quindi troverete ancora i quiz su questo tipo di strada ma state tranquilli che non troverete più nella realtà il tipo di strada. Le hanno tutte modificate tracciando semplicemente una doppia striscia continua che separa due sensi di marcia questa è una strada che essendo a doppio senso a tre corsie ha le corsie dispari quindi si sono, diciamo, dopo numerosi casi di incidenti mortali decisi a trasformarla tracciando una doppia striscia continua di separazione dei sensi di marcia ora dando una corsia a un senso e due all'altro e poi invertendo la possibilità e dando due corsie al senso contrario e una corsia al senso opposto alternando un po' il numero delle corsie disponibili per fare il sorpasso un po' per ogni senso di marcia a tratti alterni e andiamo avanti a vedere la strada una sola carreggiata divisa in due o più corsie per ogni senso di marcia allora, normalmente si userà la corsia adesso a noi naturalmente interessa il nostro senso di marcia quindi le nostre due corsie si usa la corsia di destra per la marcia normale tutte le altre, in questo caso una, per il sorpasso quindi che ce ne siano due o tre o quattro per il nostro senso di marcia la cosa è indifferente cioè l'unica corsia di marcia normale quella di destra tutte le altre, quante sono sono riservate al sorpasso con l'obbligo di rientrare nella corsia di destra dopo avere terminato il sorpasso ok? naturalmente su queste strade il sorpasso è molto meno pericoloso in quanto non abbiamo nulla a che fare col senso opposto di marcia poiché è diviso dal nostro da una doppia striscia continua e quindi a sua volta il senso opposto di marcia avrà le sue due o più corsie e passiamo a vedere le strade divise in carreggiate separate ora, tanto per ricordarvelo queste strade che abbiamo visto finora una, due, tre, quattro sono tutte anzi scusate una, due e tre le prime sono tutti a carreggiata unica perché non esiste uno spartitraffico che separa i due sensi di marcia adesso andiamo invece a vedere le strade divise in più carreggiate da spartitraffico e sono queste quelle chieste nei quiz naturalmente strada divisa in due carreggiate separate lo spartitraffico nei quiz è indicato da una striscia verde che tiene tutta la lunghezza del disegno ora, noi qua lo vediamo in verticale perché così è più chiaro insomma, mettersi nella giusta prospettiva del nostro senso di marcia nei quiz vengono normalmente raffigurate in orizzontale quindi dobbiamo ruotare di 90 gradi a destra la figura e lo spartitraffico tiene tutta la larghezza della figura in questo caso è l'altezza ma insomma non è che cambi molto la cosa allora, lo spartitraffico separe due sensi di marcia quindi non abbiamo problemi per il sorpasso in quanto lo potremo tranquillamente effettuare all'interno del nostro senso senza avere a che fare con quelli che vengono in senso contrario secondo il numero delle corsie del nostro senso che è quello che a noi interessa ci comportiamo come sulla strada che abbiamo visto poco fa cioè l'unica corsia di marcia è quella di destra tutte le altre sono per il sorpasso quante ce ne potrebbero essere? per esempio sull'autostrada normalmente sono più di due saranno magari tre o quattro quindi in ogni caso la regola della marcia normale sulla corsia di destra vale per tutti i tipi di strade sia urbane sia extraurbane e vediamo l'ultimo tipo di strada divisa in carreggiate che sta nel quiz che è quella con tre carreggiate separate abbiamo due spartitraffico quindi il numero delle carreggiate praticamente si ottiene aggiungendo uno un'unità al numero degli spartitraffico quindi due spartitraffico vuol dire tre carreggiate uno spartitraffico vuol dire due carreggiate ok? normalmente le carreggiate di destra e di sinistra quindi quelle estreme sono a senso unico e quella centrale normalmente è a doppio senso normalmente adesso qua non guardate questa vecchia figura perché qui ci sono tre corsie normalmente ne avrebbero quattro salvo diversa segnalazione ok? naturalmente noi dobbiamo impegnare la carreggiata laterale di destra che sarà a senso unico nel nostro senso e la parte destra della carreggiata la parte diciamo di circolazione nostra della carreggiata centrale se la carreggiata è a doppio senso se invece la carreggiata a senso unico come in certi casi può accadere allora avremo delle segnalazioni opportune che ci indicano che anche la carreggiata centrale è a senso unico andiamo avanti a vedere beh l'autostrada mi sembra che sia inutile va bene insomma la accenniamo ma non non cambia abbiamo detto prima è una strada a carreggiata separate ci sarà la corsia di sosta d'emergenza poi la prima corsia è quella di marcia quella vicina alla sosta d'emergenza le altre sono tutte di sorpasso e poi abbiamo la strada a senso unico di circolazione che è una strada dove si circola in un'unica direzione di marcia non ci interessa quante corsie può avere ne può avere una, due, tre eccetera ma in ogni caso il senso di marcia è uno solo e le regole da tenere nell'utilizzo delle corsie sono sempre le stesse cioè la corsia di destra è per la marcia normale le altre corsie in questo caso una sola di sinistra è per il sorpasso e passiamo alla marcia per file parallele allora abbiamo detto che normalmente il codice della strada ci impone di circolare sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro e quindi ci impone di usare le corsie in un certo modo prefissato ci sono dei casi però in cui si può marciare per file parallele cosa vuol dire si può trasgredire questa regola nel senso che è permesso utilizzare una qualunque corsia del nostro senso questo naturalmente è regolamentato dal codice della strada per alcuni casi che tra poco vedremo quindi solo in certi casi si può fare si può avere questo comportamento quindi possiamo utilizzare in questo caso una qualunque corsia del nostro senso per la marcia e non solo la corsia di destra naturalmente questa deroga vale solo per i veicoli a motore che siano abbastanza veloci perché è fatta apposta per snellire il traffico quindi i veicoli senza motore come le biciclette i veicoli a trazione animale e così via i veicoli a braccia eccetera e i ciclomotori che sono quella categoria di veicoli a motore che non possono superare i 45 km non possono usufruire sfruttare diciamo così questa opportunità e quindi devono rispettare la solita norma di tenere la destra usare la corsia di destra circolare nella corsia di destra perché altrimenti intralcerebbero gli altri veicoli più veloci e questa marcia per file parallele è stata inventata apposta per snellire il traffico praticamente nella circolazione per file parallele è consentito lo scorrimento di una fila rispetto all'altra quindi ognuno marcia nella sua corsia del proprio senso come se fosse su un binario e quindi ogni fila si muove alla velocità di scorrimento della fila stessa ecco perché quindi se io sono in una fila dove la circolazione è più veloce per qualche motivo io posso sopra avanzare gli altri veicoli della fila delle file adiacenti quindi si può attuare il sorpasso per scorrimento senza dover cambiare corsia è fatto apposta appunto per snellire il traffico naturalmente se questo consente di snellire il traffico sono vietati quei comportamenti che invece intralcerebbero questa velocità di traffico e cioè adesso vediamo quali sono le regole per il cambiamento di corsia perché ci saranno anche dei casi in cui io devo poter cambiare corsia quindi la circolazione per file parallele aumenta la portata della strada esnellisce il traffico però richiede anche certe regole proprio per non creare la situazione opposta di ingorghi di traffico quindi il cambio di corsia è consentito soltanto in questi casi quando si deve raggiungere la prima corsia di destra perché magari io mi trovo in un'altra corsia per svoltare a destra o l'ultima corsia di sinistra per svoltare a sinistra cioè devo fare l'incanalamento predirezionale all'intersezione cioè preventivamente prima di arrivare all'intersezione devo cambiare corsia per predispormi nella giusta corsia per cambiare direzione perché se no intralcerai il traffico non posso attraversare le altre corsie in vicinanza dell'intersezione per cambiare direzione posso cambiare corsia per effettuare una riduzione di velocità quindi un rallentamento per qualunque motivo e per effettuare una volontaria sospensione della marcia cioè decido di fare una sosta o una fermata lato della carreggiata lo posso fare naturalmente se non sia vietata in quel punto la fermata o la sosta poi i conducenti che si trovano nella prima corsia di destra possono spostarsi nella corsia vicina se devono superare un veicolo senza motore o comunque un veicolo molto lento perché abbiamo detto che i veicoli senza motore i ciclomotori devono circolare nella corsia di destra se io mi trovo dietro chiaramente non è che devo stare lì a morire ad aspettare che questi vadano avanti li posso superare cambiando corsia naturalmente il cambio di corsia come abbiamo visto parlando degli indicatori di direzione va sempre segnalato qualche secondo prima di farlo con gli indicatori di direzione e naturalmente va sempre ispezionata la strada in modo da vedere che io non debba creare intralcio pericolo per chi percorre la corsia su cui voglio spostarmi e che nessuno che mi precede o che mi segue abbia già iniziato la stessa manovra perché lo spostamento di corsia non possiamo farlo contemporaneamente in due vediamo adesso i casi in cui si può circolare per file parallele nelle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di marcia quando però la densità del traffico è notevole cioè quando c'è molto traffico quindi praticamente su questa strada dove vediamo che c'è molto traffico posso scegliere una qualunque corsia da impegnare per la marcia normale ma se ci fosse un traffico normale quindi non diciamo così questa formazione di code di marcia per file parallele ma ci sia la corsia di sorpasso libera io devo circolare normalmente tenendo la corsia di destra secondo caso arrivando a una intersezione regolata dal semaforo o dal vigile e anche durante l'attraversamento dell'intersezione al segnale di via libera attenzione questa vale questa norma della circolazione per file parallele vale solo se l'intersezione è regolata quindi se è un'intersezione non regolata né da semaforo né da vigile non si può marciare per file parallele perché altrimenti ci si limiterebbe la visibilità nell'intersezione e ancora in tutti i casi in cui gli agenti del traffico ci autorizzano a circolare per file parallele perché per qualche motivo di rallentamento del traffico devono snellire il traffico e quindi disporre il traffico su più colonne andiamo a vedere ora la marcia sui binari tranviari parliamo dei binari tranviari a raso cosa vuol dire a raso vuol dire a livello della carreggiata cioè una sede del tram promiscua si chiama promiscua la sede tranviaria che può essere impegnata anche dagli altri veicoli possono quindi marciare sulle rotaie i veicoli possono procedere sui binari delle rotaie quindi sede tranviaria promiscua purché non intralcino la marcia del tram o salvo diversa segnalazione e qui abbiamo appunto i due binari al centro della carreggiata naturalmente devo marciare sui binari corrispondenti al mio senso di marcia non su quelli destinati al tram che arriva dal senso contrario e quindi non posso sconfinare al di là della mezzeria della carreggiata se invece la strada ha i doppi binari tranviari a raso come in questa figura cioè il tram ha i suoi due binari di andata e ritorno tutti sulla destra allora i veicoli devono marciare alla sinistra dei binari all'interno del proprio senso di marcia in questo caso ci sarà comunque una delimitazione attraverso una striscia gialla che segnala la sede propria all'inizio della sede propria del tram e poi la striscia bianca di margine che segnala l'inizio della nostra carreggiata ovviamente in ogni caso devo rimanere a sinistra di questa zona che si chiama sede tramviaria propria quindi esclusiva del tram ma comunque rimanere all'interno del mio senso di marcia e passiamo al sorpasso dei salvagente che sono quelle manufatti diciamo così che sono messi all'interno della carreggiata ad esempio per agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dai mezzi pubblici come si vede in queste due figure dove la fermata del tram o dei filobus è corredata dall'isola salvagente che normalmente è posta a destra dell'asse della strada quindi abbiamo i binari tramviari di andata e ritorno del tram al centro della carreggiata salvo diversa segnalazione e qui vedete che non c'è nessuna segnalazione sulla testa del salvagente i veicoli possono passare indifferentemente a destra o a sinistra del salvagente quindi possiamo anche andare a marciare sui binari del tram se non intralciamo naturalmente la marcia del tram se invece abbiamo una segnaletica di passaggio obbligatorio che sarà normalmente sulla destra allora è consentito solo sorpassare il salvagente sulla destra cioè non si può andare a marciare sui binari del tram vediamo ancora l'attraversamento di porte di porte o fornici e vediamo di spiegare cosa sono allora i fornici sono questi archi che esistono quando ci sono le antiche mura della città costruite nei tempi in cui si usavano le mura per delimitare il perimetro della città abbiamo naturalmente degli ingressi e delle uscite che si chiamano fornici qui ne abbiamo tre uno centrale e due laterali aperti nelle mura urbane normalmente il transito è regolato da appositi segnali come vedete questa è la zona consentita al nostro ingresso mentre questa è l'uscita quindi c'è il senso vietato si deve impegnare il passaggio libero più a destra a meno che non sia già impegnato e quindi sia consentito usare gli altri passaggi liberi del nostro senso di marcia come vediamo in questa figura